Grazie Signor Presidente, ringraziarla sentitamente del suo invito a nome del mio cosceneggiatore Marco Pettenello, dei produttori di Vivo Film e Iole Film, di Rai Cinema, di tutto il cast che qui sono rappresentati da Dio Germano, Paolo Piero Borro, Roberto Citrane e Elena Radonicic e della distribuzione, la Chired, della Presidenza e della Direzione Artistica della Festa del Cinema di Roma che ha voluto aprire la sua diciannovesima edizione con il nostro film ed infine dalla famiglia Berlinguer, la cui collaborazione in questi anni è stata per me e per noi fondamentale, voglio dedicare questo mio breve saluto ai tantissimi ragazzi e ragazze che ho incontrato nelle sale di tutta Italia nelle ultime tre settimane. La Polizia di Stato di Gela ha tratto in arresto un ventenne gelese, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha intercettato il giovane mentre, a bordo di un'auto di grossa cilindrata, procedeva a velocità sostenuta lungo la strada statale 117 bis, non curante dei lavori in corso per il rifacimento del manto stradale. Una volta fermato il mezzo, gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato il ragazzo alla guida, riscontrando un atteggiamento sospetto e un particolare stato di agitazione. Da un controllo accurato del mezzo, nascosto nel cofano dell'auto, gli agenti hanno rinvenuto un trolli all'interno del quale erano contenuti 200 panetti di hashish, per un peso complessivo di 20 kg, che messi sul mercato avrebbero potuto fruttare oltre 100.000 euro. Nel corso della perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'arrestato sono state sequestrate 13 dosi di cocaina e denaro in contante probabile provento dell'attività di spaccio. Le fiamme gialle della compagnia di riposto hanno eseguito negli ultimi periodi oltre 20 mirati interventi, individuando in diversi esercizi commerciali 34 lavoratori in nero e 9 lavoratori irregolari. Nello specifico i controlli hanno coinvolto diverse forme di esercizi commerciali fra le quali ristoranti, bar, pasticcerie, negozi di abbigliamento e calzature, società di vendita di elettrodomestici e materiali per l'edilizia. Proponendo per 14 di questi esercizi, anche la sospensione dell'attività imprenditoriale in ragione dell'elevato numero di personale che prestava attività lavorativa in nero al momento degli accessi effettuati dai militari. Tra i numerosi lavoratori in nero vi era un minorenne che percepiva uno stipendio giornaliero pari a circa 14 euro, nonostante le numerose ore di lavoro prestate. Oltre a due soggetti che sono risultati anche destinatari di un separato assegno di inclusione statale poiché ufficialmente non inquadrati come lavoratori dipendenti. Di rilevante interesse è risultata essere l'attività posta in essere nei confronti di una società di coltivazione di uva. Ben sette lavoratori irregolari erano pagati settimanalmente mediante l'utilizzo di mezzi di pagamento non tracciabili. In adempimento questo che ha comportato l'applicazione di sanzioni amministrative che possono arrivare per la singola società interessata ad un massimo di 825.000 euro. Il crescente fenomeno della corresponsione degli stipendi con pagamenti incontanti ha riguardato altre attività commerciali fra le quali una macelleria, un'impresa edile ed un negozio al dettaglio. Alle quali sono state contestate analoghe sanzioni amministrative per un ammontare totale di oltre 280.000 euro in 20 casi, è stata applicata la cosiddetta maxisanzione, a causa delle omesse comunicazione da parte dei singoli datori di lavoro, che ha consentito di contestare sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo di 480.200 euro. I carabinieri del nucleo operativo di Catania Piazza Dante, hanno denunciato all'autorità giudiziaria una 58enne di origine asiatiche, ritenuta responsabile di sfruttamento della prostituzione. I fatti hanno avuto come teatro una palazzina, a due passi dalla stazione ferroviaria dove, i carabinieri avevano ricevuto, dagli abitanti della zona, la mentele circa il continuo via vai di uomini, di tutte le età, nello stabile. Gli investigatori hanno organizzato un servizio di appostamento nei pressi di quel civico, riscontrando, in determinate ore della giornata, l'effettivo andirivieni di soli uomini. Poi esaminando anche i vari annunci online della categoria massaggi in quella zona. I militari dell'arma sono risaliti a quello che proponeva prestazioni a pagamento proprio in quello stabile e ciò ha avvalorato l'ipotesi che quella fosse una casa d'appuntamento. Pertanto, hanno deciso di entrare in azione bloccando e interrogando un cliente appena uscito, il quale ha confermato quella che fino ad allora era solo un'ipotesi. Raccontando di aver visto un annuncio su internet relativo ad un centro massaggi particolare, che offriva servizi extra ai clienti e di aver preso un appuntamento. L'uomo ha poi specificato che in casa aveva incontrato una donna, la quale gli avrebbe detto che le prestazioni sessuali sarebbero state fornite da una connazionale. Mentre lei si sarebbe occupata solo di incassare il denaro pattuito, tuttavia, l'avventore sarebbe andato via senza usufruire di quei servizi, perché scoraggiato dalle scarse condizioni igieniche in cui versava l'appartamento. A quel punto, i carabinieri, in abiti civili, sono entrati nell'abitazione, accolti dalla sorridente tenutaria che, scambiandoli per clienti, ha con insistenza proposto loro il menù della casa. Subito dopo essersi qualificati, i militari hanno proceduto al controllo dei locali, trovando all'interno di una stanza a luci rosse un'altra donna sessantenne. Un'area attrezzata a parcheggio per la sosta di autoveicoli, bus motoveicoli e biciclette e un ampio tratto stradale a quattro corsie che connetterà via Teseo con la litoranea in prossimità della rotatoria vicino all'unità ospedaliera Cannizzaro. L'aggiunta comunale del sindaco Enrico Trantino, ha deliberato la progettazione esecutiva del parcheggio scambiatore AC Castello, finanziato con 10 milioni di euro di fondi regionali del piano dei posteggi per le tre città metropolitane dell'isola, infrastrutture che sorgeranno al confine est del capoluogo etneo, sia al servizio del vicino ospedale e anche come nodo intermodale di scambio per intercettare flussi veicolari del traffico in entrata verso la città di Catania. In dettaglio il progetto prevede la realizzazione di un'area di 13.500 metri quadrati da adibire a parcheggio. Un importante passo avanti per migliorare la mobilità cittadina, hanno commentato il sindaco Trantino e l'assessore Parisi, che finalmente porta a compimento un intervento in un nodo strategico di cui si è parlato per parecchi anni. Ora siamo vicinissimi all'obiettivo di avere una nuova infrastruttura in grado di drenare il gran numero di auto che entrano in città e che sarà al servizio dell'ospedale Cannizzaro e del vicino lungomare che auspichiamo chiudere al traffico veicolare nel più breve, tempo possibile, di fatto trasformando uno degli ingressi verso l'area urbana da zona di transito ad area di scambio del mezzo privato con quello pubblico. Il progetto esecutivo prevede anche un piano economico di utilizzo in grado di produrre utili a vantaggio delle casse pubbliche. offrendo una serie di servizi efficienti fondati sui più moderni criteri della mobilità sostenibile. Nelle prossime settimane la regione siciliana emanerà il decreto di finanziamento definitivo delle opere che il comune metterà a gara. Secondo il direttore comunale dei lavori pubblici, Fabio Finocchiaro, è ipotizzabile che prima dell'estate possa aprire il nuovo cantiere. Il comune di Mascali ha ricevuto un importante contributo dalla regione siciliana per far fronte alle spese legate all'ospitalità canina. L'assessorato alle autonomie locali di concerto con l'assessorato all'economia ha stanziato la somma di 18.642 euro a favore dell'amministrazione comunale, a titolo di quota parte dei trasferimenti regionali per l'anno 2024. L'amministrazione comunale potrà continuare a garantire cure e assistenza ai cani randagi e abbandonati presenti sul territorio. Temperature massime fino a 24 gradi, minime per lo più stazionarie.